Avvisiamo che, come ho scritto anche in chat, l'incontro verrà registrato per consentire appunto anche di fruirne a posteriori sul nostro canale YouTube del settore patrimonio culturale, quindi vi chiediamo il consenso e se volete anche esprimelo scrivendolo in chat, va benissimo. Io inizierei, se siete d'accordo, perché questo è un incontro di lavoro, ormai ci siamo abituati ad avere un rapporto settimanale, quotidiano con i nostri operatori degli istituti culturali e oggi il tema è prenderci un'ora, un'ora di orologio per fare un aggiornamento rispetto appunto al catalogo regionale del patrimonio culturale e scoprire quelli che sono gli aggiornamenti, i miglioramenti che possiamo presentare grazie sulla piattaforma gestionale. Questo perché? Perché il catalogo del patrimonio regionale Pater ha una storia già consistente e da molti utilizzatori, i numeri appunto sono stati anche ricordati e verranno poi anche dettagliati da chi parlerà dopo di me, ma è anche cresciuto, è diventato adulto, si è consolidato, ma ha bisogno anche di rinfrescarsi e di rispondere in maniera concreta, puntuale alle esigenze degli utilizzatori più assidui e anche per arrivare a diventare abituale per chi ancora lo usa in maniera sporadica. Per questo ci siamo impegnate, più di me chiaramente, Isabella Giacometti e Claudia Collina, a raccogliere in maniera sempre molto attenta i suggerimenti, ma anche le osservazioni, le critiche, le lamentele di chi appunto opera sul proprio patrimonio servendosi di questa piattaforma gestionale e insieme a DM e con DM abbiamo proprio chiesto espressamente di sviluppare tutte queste osservazioni per testare effettivi miglioramenti a livello di facilità di accesso, di ricerca, ma anche di richiamo, di ricerche recenti. Poi vedrete davvero anche da un punto di vista di presentazione, perché è già online se non sbaglio, vi accorgerete che speriamo molta parte delle osservazioni che sono pervenute, sono state lavorate ed effettivamente hanno prodotto un miglioramento. Questo è un incontro operativo di presentazione e di spiegazione mirato agli operatori, se necessario oltre alla possibilità di fruirne ancora singolarmente in registrazione, quando uno ritiene di avere il momento giusto per dedicarsi a questo approfondimento, se necessario potremo anche ripeterlo o approfondirlo ulteriormente, anche qui sempre molto graditi i suggerimenti che verranno da ognuno di voi. Io ringrazio chiaramente Claudia e Isabella, ringrazio Luca Morini e Marco Ranieri, il rapporto è veramente costante, attento alle esigenze dei nostri operatori, dei nostri direttori, dei nostri catalogatori e speriamo appunto anche oggi di darvene prova e quindi buona partecipazione.